L'approvazione del piano regolatore è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e così la lista Civica Silvi 2024 decide di uscire dalla maggioranza. Sì, ebbene sì. L'approvazione in Consiglio Comunale della variante al piano regolatore è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Erano settimane, erano mesi, come ho già detto in Consiglio Comunale, che avevamo chiesto una verifica di maggioranza perché c'erano dei punti programmatici che non venivano rispettati e quindi era necessario fare questa specie di steppe per controllare il programma elettorale. Non è stato fatto, non è stato voluto, si è portata questa variante e crediamo che non ci siano più le condizioni di sostenere l'amministrazione comunale e il sindaco Comignani. Tra l'altro c'è anche uno strappo all'interno della vostra lista perché il vice sindaco invece resta al suo posto, Partipilo. Sì, diciamo di sì, perché il vice sindaco ha ritenuto opportuno rimanere in amministrazione, noi non condividiamo assolutamente questa scelta, però la rispettiamo e quindi lo ringraziamo per il lavoro che ha fatto e ha svolto per la nostra lista e gli auguriamo un buon lavoro. Però è una scelta che politicamente secondo noi non era opportuna perché bisogna avere anche un progetto più a lunga scadenza e una visione più lunga e più grande per Silvi. Adesso che cosa accadrà in Consiglio Comunale? Si sarà in una situazione di 9 a 8 e in maggioranza rimarrà una persona in più rispetto all'opposizione. Sì, ha detto bene. Noi riteniamo che uscendo dalla maggioranza si debba andare ad elezioni anticipate perché i cittadini hanno votato questo tipo di alleanza, Silvi 2024 e il PD. Uscendo noi viene meno proprio il progetto. Se il PD e l'amministrazione comunale e il sindaco Comignani ritiene di dover comunque continuare ad amministrare, in Consiglio Comunale avranno solo un consigliere di maggioranza, noi faremo un'opposizione costruttiva e porteremo le istanze dei cittadini e controlleremo soprattutto quello che farà l'amministrazione comunale, se riuscirà a fare qualcosa. Allo stesso tempo incontreremo i cittadini, apriremo una nuova fase, un nuovo progetto per scegliere una nuova amministrazione e un nuovo sindaco prossimamente.